L'ex sindaco di Pescara, Luigi Alboremascia, torna sulla necessità di realizzare un teatro comunale punta l'indice contro il degrado in cui versa da decenni lo storico cinema-teatro Michetti di Porta Nuova. Pescara è uno dei pochi capoluoghi in Italia a non avere un teatro. L'idea era quella invece di un grande segno urbanistico, di un teatro importante ma anche flessibile da utilizzare all'interno dell'area di risulta. Il Michetti doveva essere ciò su cui puntava Alessandrini insieme alla sua amministrazione e alla sua giunta. Tuttora è assolutamente inutilizzato e un cantiere i cui esiti ancora sono imprevedibili. Sembra uno scherzo, è l'amara sintesi dello stato degli spazi teatrali nella città di Pescara, sottolinea l'esponente di Forza Italia, in riferimento allo stricione affitto stesso sulla balconata del Michetti, la cui ristrutturazione, ora per un inghippo, ora per un contenzioso legale, scivola di anno in anno fino ad avere un termine di fatto imprevedibile. Resta sempre grande e forte la voglia e il desiderio di un teatro e di un luogo culturale qui in città. Sì, l'idea era quella intanto di avere una forte caratterizzazione. Ricordo che si erano avvicinati all'idea personaggi del calibro di Fuxas, di Norman Foster, che hanno fatto grandi città in Europa e che avrebbero voluto dare un contributo alla città di Pescara. L'idea era di un teatro flessibile, di un teatro con un ridotto, che sarebbe diventato un laboratorio per le tante associazioni culturali che a Pescara esprimono la vivacità straordinaria di questa città dal punto di vista culturale. Tutto ciò non è stato possibile, ma io mi auguro che possa essere possibile nei prossimi cinque anni.